Ciao ragazzi, Balmax IWA 2019. Siamo allo stand di Edge Tactical, un'azienda eccezionale per quanto riguarda la produzione di occhiali balistici, perché naturalmente oltre ad avere una proprietà balistica e hanno tre certificazioni, quali quella europea, quella americana e anche la militare americana, le lenti con i quali sono costruiti sono proprietarie del sistema di antiappannamento. Questo vuol dire che l'occhiale non ha un trattamento, non ha un film sulla lente, ma ha una proprietà antiappannante. Non solo, ma sono concepiti anche per l'utilizzo con cuffie o delmetti, perché hanno il sistema Tim Temple, sono montature in nylon, per cui praticamente indeformabili e molto molto comportevoli. Naturalmente eccedono tutti gli standard balistici, hanno la possibilità di avere diverse colorazioni di lenti e nel caso dell'Amel, che è un occhiale di punta della produzione Edge, abbiamo anche differenti colorazioni. Abbiamo il Desert Tan, abbiamo il verde, abbiamo il Mask Grey e abbiamo il Wolf Grey. Oltre naturalmente non ci ha acclarato l'immunica. Questo è tutto da Edge Tactical, Max di Mad Max, Ivan 2019. Ciao!